Sì, purtroppo devo dire che in questi due giorni si sono consumate due tragedie che ci vedono come comunità veramente vicine alle famiglie. Tragedie inspiegabili che oggigiorno molti giovani ancora sono vittime della strada. Nonostante tutte le campagne di prevenzione, nonostante tutto quello che si sta facendo, ancora non è abbastanza. Noi come istituzioni cercheremo di intervenire. Chiaro è che speriamo insomma che in un domani ci sia anche la consapevolezza di rispettare quello che è il codice della strada da ambo le parti. Grazie.